Wow, sei molto flessibile! È vero, sono estremamente flessibile! E quanto sei flessibile? Prova a indovinare! Tanto così! Ehi, piano, non sono un elastico! Oh, ti muovi a passi minuscoli! Sei una fisormonica? No! Il mio corpo però è fatto di tante parti unite tra loro! Oh, ma non ho le ruote! Ho molte zampe! Sì, così! Ora va molto meglio! Dove stai andando? Vado a mangiare qualche foglia! Oh no, ti sei ferito! Non preoccuparti! Se mi ferisco, la mia palla guarisce da sola! Wow, cos'altro sai fare? Sei come un transformer! Ma certo! E da grande muterò in un animale completamente diverso! Fammi vedere! Perché ci vuole così tanto? Ma sei uguale a prima! Bisogna avere un po' di pazienza! Ci vuole del tempo per trasformarsi in una bellissima... Farfalla! Aspetta, aspetta, aspetta! Sei un animale estremamente flessibile che si nutre di foglie! Con il corpo fatto di tante parti unite tra loro e che si trasforma in una farfalla! Lo so chi sei! Tu sei il bruco! Esatto! Come hai fatto a indovinare! Come hai fatto a indovinare!